NEMICI NELL'AREA! NEMICI NELL'AREA! NEMICI NELL'AREA! NEMICI NELL'AREA! E' quello a terra! Non a me! A loro! Ci sono! Sei nei primi venticinque! Ottimo lavoro! Siamo nella zona di cora. Nuova zona sicura individuata. Avete del gas in arrivo. Siamo nella zona di cora. Siamo nella zona di cora. Nuova zona sicura individuata. Avete del gas in arrivo. 10 rimasti. Ci sei quasi! Bombardamento di precisione nemico. Al riparo! Ci sono! Ci sono! Allora! 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 Sì. 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 Sì.